Bene, per noi oggi è una giornata di grande soddisfazione perché finalmente, dopo il periodo della pandemia, possiamo riaprire i battenti per la Fiera di Sant'Alessandro, fiera storica legata al mondo dell'agricoltura e dell'azotamia, con ben 172 operatori presenti. Siamo veramente contenti. Bene, la Fiera di Sant'Alessandro è l'evento più importante sulla provincia di Bergano per il settore agricoltura e zootecnia. Ospitiamo 170 espositori, 250 bovini, 250 cavalli. È la fiera che interessa tutto il polo espositivo, quindi tutte le aree interne e tutte le aree esterne. Col Diretti Bergano partecipa alla Fiera di Sant'Alessandro per stringere ulteriormente il rapporto che ha con il cittadino. Lo fa attraverso convegni di stringente attualità scientifica come quello organizzato sui mutamenti climatici, ma anche con laboratori di divulgazione scientifica in collaborazione con Bergamo Scienze. Fiera Minelaria storica, tra le più importanti della regione Lombardia, che rappresenta un volano per il settore agricolo per far conoscere i prodotti del territorio ai consumatori e agli addetti al lavoro. La presenza di ATS Bergamo presso questa Fiera è una presenza storica. Il Dipartimento Veterinario in particolare garantisce lo stato sanitario degli animali che giungono qui e pertanto la salute degli animali e la sicurezza del cibo sono quello che viene garantito anche qui in Fiera ed è quello che viene garantito tutti i giorni dall'anno sia dai produttori che dai Dipartimenti Veterinari.